una induzione magnetica questa induzione senza parole permette di ottenere in molti secoli qualcosa che si chiamata stato di Isdale ma non verbale non verbale e noi siamo completamente alti non verbale 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 Normalmente lo identifichiamo con la direzione. Passi e altri elementi. E' la catalepsia. Anche questo cuore che ho creato catalettico potrà rinforzare l'idea. Abbiamo pensato che ora sta in un estado dove la sua posizione può in qualche modo essere sentita più da sua corpo. Dalla sua mente. Ora lavoreremo solo con questa catalepsia, quando facciamo un'altra lezione, noi lavoreremo anche con la catalepsia dei piedi. La catalepsia dei piedi è normalmente utile per la resistenza. Questa è la quale stiamo in una posizione specifica che è legata alla resistenza, un altro elemento specifico, per rinforzare, per rinforzare, per rinforzare, la strutture della stessa sala. Seconde pass. La catalepsia. Do centro. Grazie Ora mi lavorerò il magnetismo perché mi sentirà che il ruolo della mia mano sul basso è forte Questo è un consiglio di balancio. Quindi ogni movimento, ogni posizione che ho fatto con questa ragazza può creare un'idea. Inoltre di utilizzare le parole, utilizziamo le basso posizione. Inoltre di utilizzare le basso posizione. Inoltre di utilizzare le basso posizione. Inoltre di utilizzare le basso posizione. Per vedere se la catalepsia resta. Non si può creare le basso posizione. Non si può creare le basso posizione. Ora, ora, le faccio più di più. Grazie.